Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi germini. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si fa via via più forte, dunque tempo stabile sul nostro territorio e valori termici in diminuzione per l'ingresso di correnti più asciutte e fresche. Da nord-est vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 23 ottobre delinea una situazione del tutto tranquilla. Avremo foschie e nebbie al mattino sulle zone di pianura ma in dissolvimento con il passare delle ore. Altrove tanto sole e precipitazioni assenti. Temperature gradevoli, minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 18-19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, molte nubi con cielo anche coperto in mattinata, sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove non cambia la situazione, anche qui infatti avremo un ampio soleggiamento, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del mondo. Grazie. Grazie a tutti.